Ciao ragazzi, finalmente siamo partner di Aston Deck Tracker, quel programmino che mostra le percentuali durante le partite, di vittoria, sconfitta, pareggio e anche degli eroi migliori a inizio del game. Quindi è il top del top, super consigliato, potete scaricare dal link in descrizione. Allora, non ci sono i demoni, quindi non dormo perdi, infatti come potete vedere il teletrale, le stats vedo che sono già belle aggiornate. Io andrei di Silas qui, però, proprio per la questione di HP, so il buddy, come se il buddy sia forte di Silas o meno, però gli altri non è che mi facciano un entusiasmo, mi sembra almeno peggio, mi sembra almeno peggio. Quindi vai. Non credo che ci stia fare 3-1 avendo mela. Di solito la spell a 1 col ticket è buona, però in questo spot qui è un po' così. È un po' così, non la frizzerei. È un buddy di Silas. Doba che rimuda un servitore di Fringe più 4 più 4 e potenza di questa carta di più 1. Non è che sia così forte. Donazione Avis. Tato, di domani c'è un torneo di calcetto, ragazzi, alle 3. Quindi, i due dei miei giocatori stasera sono fuori a bere. Malissimo. Io sono uno dei presidenti, ho fatto l'asta e hanno un bellissimo sistema. Ragazzi, sta male a fare doppio 3-1? Cioè, 3-1, moneta, into tier up, prendo fastidio e botte i tiro sopra le due gemme e discover un 2. Ci sta. Ci sta. Proviamo. Però allora tanto vale a fare questo. Ok. Comunque bravo che doni Bon, ovviamente. Lo sai già, non c'è bisogno che te lo... Infatti, tra l'altro non sapevo che si potesse donare di domenica. Oh, fai sicuramente una bella cosa. Quindi, stasera a letto presto. Teniamo questo sangue di qualità. Ciao, Mariano. Come va, Mariano? Sto a posto? Potrebbe uscire... Faccio prima questo e potrebbe uscire il verro. Non è questo il verro. Ti intendevo. Perchè, non abbiamo già lo scudo. Prenderei il poeta io qui. Soldi. Perchè, non abbiamo già questo da fare. E siccome... No, terrei sempre lui. Potrei fare così, in realtà. Ma non è un brutto start. Comunque, vi dicevo, praticamente sta domenica, ragazzi, faccio un torneo. Cioè, domeni, domani. C'è un torneo di calcetto. E già... No, io non è che sia proprio... Massimo esponente del calcetto, anzi. Però ha un bellissimo format. Perché siamo... Sono... C'è l'organizzatore. Ha preso 24 giocatori. Oh, stop. Eeeh. Bello. Coppia di ticket. Mi piace. Bella ci sta. Dicevo, 24 giocatori, 4 presidenti e si fa l'asta. Quindi, per esempio, è un torneo di calcetto tra amici, ma con l'asta. Io da presidente ho fatto l'asta. Eeeh. Ovviamente io sono un giocatore che vale di meno a tutti i 24. Valgo un credito. Eeeh. Gioco a calcetto una volta l'anno. A questo torneo qua. Però sono il presidente. Sono lo stratega. Vediamo se la squadra che ho costruito domani performerà. Il fatto che due dei miei giocatori stasera siano fuori a bere non è, però, un buonissimo inizio. Ma è vero che i San Marino siano il sangue verde. Blu, al massimo, Piox. Andiamo il sangue blu. Quindi, di una nobiltà ormai decaduta. Ciao, Shotbot. Wow. Allora. Ci sta la tripla. Ci sta la tripla. Però. Ah, se io prendo lui. Questo costa uno. Faccio lui e vendo loro due. Poi. Frizziamo la tripla. O no. Teoricamente si frizza. Non lo so. Teoricamente è forte. Però al stesso tempo non lo è. Cioè, non è fortissimo fare un 6-4. 6-8. Sono puntando tutti. Fa' attenzione. Se no, ci stava. Probabilmente frizzare. Sì, ci stava. Mi hanno nerfato con quei... Eh, ma sono... Li ho presi io, ragazzi. E ero pure fuori con loro oggi. Eh, non mi ho convinti a non andare a avere. Eh, ma probabilmente era per il più 4-p4. Infatti sì, ci stava. Non ero deciso. Però era un pessimo... Un pessimo pezzo. E' questo qua. Ti salta per il bel profondo. Questo. 1-2-4. 2-4. 2-4. 2-4. Allora. Vediamo. Leggiamo un po'. Sei presidente e ti sei preso per l'ultimo giocatore. Allora, praticamente hanno fatto 3 presidenti che non giocano. Io sono l'unico presidente giocante. Tutti dovevano prendere 6 giocatori e avevano 50 crediti. Io ne dovevo prendere solo 5, perché giocavo. E ho 51 crediti. Questo era il mio vantaggio. Essendo il giocatore più scarso del torneo. Porca brutta 3 che ho fatto. Oh my god. Dai, non si può prendere 11 danni al 16% a 5-9. Ma che è? Ma che è? Tripla. Cioè, teoricamente scaglia morta per un 7, però... Cioè. Cazzo. No, 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 no. Forte. Qualcuno mi riconfonga! Wow, la combo incredibile! Che combo incredibile è! Ah, anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il distorzore. Non ci credo! Che combo incredibile! Non avevo... Ma va là? Adesso vabbè, sto venendo scammato la file di prima, ragazzi. Ma che bello è il buddy? Che scomma con rottame? Questo lo devo mettere prima, però. Cioè, devo in qualche modo... Non attaccare questi 4. Fino a che non ho ammazzato il resto. 33... Dai, sì. Mi ha fatto bene qui. Ok. Allora. Chi salta qua? Il triplo al buddy, mi sa, eh. A meno che noi lo vogliamo... No, il buddy lo forse lo trippiamo al 6. Se possiamo permetterci qua una livellata al cingale e poi trippere al 6, ragazzi. Dove sì? È chiaro che quelli che devono saltare sono loro, però... Perché è troppo forte sta combo. Però non so se è adesso o dopo. Forse adesso prendo queste role. Però questo non è un discover. No? Che strana interazione. Ma che strana interazione è, ragazzi? Cioè, lui dà più di più uno qui. Cioè, se lo fai con questo, non è considerato un discover. Ma con questo non è considerato un discover. Non è così forte. Il 5-6. Solo la prima volta che lo fai. Dopo non è un discover, ma è semplicemente un piazzo giallo random. Anche se la cara dice discover. Ma da un punto è estremamente bloccato, credo che avete cittadinanza italiana, oppure comunque vi siete bene. Io... Allora, io ragazzo non sia samarinese che italiano. Ma di base, chi è samarinese non è italiano. È un stato diverso. Non è detto che uno che sia solo samarinese, anzi, uno che è solo samarinese, è molto probabile che non abbia pure la cittadinanza italiana. Perfetto, abbiamo tutto. Ok, allora dobbiamo fare mech. Brown si piglia. È anche dracari, cazzo. Allora, aspetta un attimo. Facciamo così. Facciamo anche questa. Poi vendo, sì. Lo tengo in mano. Oggettualmente adesso salterebbe il 4-5. Facciamo questo prima di tutto. No, questo va via. Quant'è il 4-5. Senti ritmo? grazie Cazzo Due volte In teoria Ragazzi mi sa che devo far saltare il 10-12 Per Dracari qua Sì ci sta tutta la vita Cioè questo qua ha pulito Sto Burt Ahia ho trovato il migliore Ho trovato il migliore Ci vorrebbe il Murloc 8-5 Il migliore sarebbe quello Comunque Questo ragazzo lì Torno debole eh Non sto tornando di nulla Ragazzi è Dracari o Toro Cioè il Toro è un peccato non piazzarlo Però la verità è che qui Con questi qua C'è ho venduto Zilliax Che si potrebbe anche fare Quanti ne ha sopra? Uno solo Li ha tirato Eh infatti ci potrebbe stare A vendere Zilliax per Toro eh Dracari entra Bran però ragazzi si attiva due volte Con Attiva due volte il rottame È il mio unico scaling Per me salta Zilliax Toro è più forte di Zilliax Toro è più forte di Zilliax Cioè Zilliax è uno scudo steltato Ma ha solo un magnetismo Lui ha la cosa figa Che si riefrescia Cioè Quello è buono Per me è così Dracari ovviamente con la spell va messo Perché me ne dà due di magnetismi Drone si prova a triplare Non so Vogliamo fare anche la spell Non so in realtà Drone vogliamo triplarlo La cosa più forte è questo Però si bisogna triplare sta roba Hai buone possibilità di vincere Per me è quello Se farà piazza pulita 11 12 anzi Modulo È molto easy qua Toro mi sa che salta veramente bra Ragazzi ora E salta Bran sul serio Perché È vero Cioè Bran mi fa attivare Mi fa attivare un magnetismo in più Però in questo momento Non è particolarmente rilevante E soprattutto sto morendo Mentre col drone Prendo molte più stazze Mi dovrà fare così Quindi qua bisogna reagire con questa build Basterà Lui appena Sta rifiando 15 danni A tutti quanti Noi neanche abbiamo chissà che build Siamo arrangiati un po' Con quello che è capitato Forse potevo prendere meno danni in mid Mettendo questo toro prima Effettivamente è un pezzo gigante Che ho tirato un po' tardi Non dirlo agli altri Ma faccio il tifo Mh Che sono morti Non ho detto Anzi In teoria no E se non sfighiamo Non siamo morti Bello Non siamo morti Ok Dai 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 Morto 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 Yes Mantieni la pressione Allora ragazzi Mai senso livellare qui Gli aspera 2 Che gigante Il 2 a 8 Se tivera Un menas Sono Non sono abbastanza Roll Roll 6-5 Ma è un magnetismo Quindi non vale la pena Roll Questo è un ticket Che costa 1 Vabbò Rollerei Quando vuoi è più forte Avere una spell Avere una spell O genesi magica Che attiva un magnetismo Random Forse è una spell Più forte Sarebbe Sarebbe stato Trova bello Un magnetismo Così Accordo Botter È anche carino Accordo Potrebbe essere stato carino Da prendere Sto turno Però io sono andato a 6 Per cercare 4 Reaper Cercare altro Precursionista Non l'ho trovato Proprio nel 3-3 Ma nel 3-3 Non so se scala abbastanza Starei fermo Per la bella tripa di drone Vuoi ancora recuperare Ciao Letizia Che fa quel mech nuovo? E questo qua Praticamente Quando gli fai sopra Un Cioè Gribi battaglia Rinviene un pezzo Lo attai Lo magnetizza Quindi finché ho avuto modo Mi sono tenuto tipo Bran Il Naga Drago Ho ciclato lui Un po' di magnetismi Così io mi sono fatto 21 Top 3 Nice No lui è una Murlock Questo potrebbe non essere male Sono riusciti adesso Due magnetismi Però neanche se è proprio il massimo Io sta roba la potrò prendere Anche senza livellare Servitore da giocare Vendiamo il 5-8 Per fare questo qua Peccato Era più forte Prendere la tripla Ovviamente Molto più forte Prendere la tripla Piuttosto che Due magnetismi brutti Erano lieto Vuoi non comprare Due magnetismi brutti E invece non ci stava Non ho creduto Nel cuore delle carte Già Teoricamente Comunque si potrebbe fare Sta play Non me ha senso 100-100 ragazzi Il cavallo comunque Ha spostato infinito Sto fortissimo Spostato infinito È stato forte Avremmo probabilmente Vinto molti fight Lo stesso Perché li sto vincendo Solo di stats Però il cavallo Comunque ha meritato Ha meritato lo slot Guarda tipo qua Fai un Fudato Il toro Indomita Ok Iniziamo con questa Non penso C'è stessa riga Contro bestia Però C'è Esatto Mi manca un'ora Mi manca un'ora Qualcuno Qualcuno Mi Ricombonga Senti il ritmo Bella scelta Molto Tattica Era molto meglio Un liroy Di questo Probabilmente Ha voluto Cioè È figo Mettere questo Divertente Ma non serve Sto spot Era molto meglio Mettere un liroy Un semplice liroy Ah anche se c'è da dire Che siamo comunque Contro bestia Quindi avrebbe spostato Il giusto Però Sì Non ci stava A prendere Mettere questo Adesso vediamo Se le stats Sono sufficienti Questo comunque Uno scuola Si becca due colpi Si becca due colpi Sta lì Però era meglio liroy Magari liroy in fondo Levava un ciccione Che gli rimaneva Poteva servire Ho visto adesso ragazzi Le vostre gag Sul fuselario San Marino Ma ancora non sapevate Che a San Marino Ragazzi È un quarto d'ora Di differenza dall'Italia Per via Dalla differente Vicinanza all'equatore Qua ti ho un'app Sul telefono Che ogni volta Che supero il confine Con la macchina Mi si adatta All'orologio In questa beach Stava il chubacabra Secondo me no Questa Fazzesca la tecnologia Sì sì Veramente Oh Che bel numero Che leggiamo In alto a sinistra Che bel numero Ho vinto con una build Ok Ma questa è roba forte Sono 15 minuti avanti Ragazzi In questo momento Da me Sono le 23 E 54 Primo posto E ritorniamo a 12k C'è YouTube ragazzi Qua bisogna macinare Che quando vado a Rotterdam Questi video Probabilmente vi vedrete Questi video Che quando vado a Rotterdam 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 Che quando vado a Rotterdam